Allora Antonio Manfellotto, migliora in campo, una partita incredibile quella di quest'oggi, Marampalcoma-Fodus 1-1, allora Antonio, molti falsi, molti contrasti per arrabbiarti tu, è guerra? Sì, è stata una partita difficile, soprattutto avevano le due punte, non le avevo mai viste al torneo e diciamo che erano abbastanza forti, non tecnicamente, però sul piano delle conclusioni erano abbastanza bravi. Senti, quindi un punto che diciamo stavolta può essere meritato, perché alla fine è stata dura. Stavolta sì, è stata una partita meritata perché noi abbiamo giocato di più sicuramente e meglio. Rammarico nel finale, qualche occasione. Sì, abbiamo avuto più occasioni, però loro non sono potuto concretizzare meglio, solo vorrei dedicare questa partita, come al solito, a Matteo Ferrante, il nostro amico che non c'è più e l'intervista mi ero in campo alla mia ragazza. Va bene, grazie a tutti.